Selfood, ossigeno per la vita. L'integratore di ossigeno e nutrimento cellulare numero uno al mondo presenta La carenza di ossigeno svolge un ruolo molto importante per la salute delle nostre cellule, perché l'ossigeno è un potentissimo disintossicante e quando non è presente in quantità sufficiente, le tossine iniziano a intaccare le funzioni corporee e a ridurre l'energia vitale. I sintomi iniziali della carenza di ossigeno sono debolezza generale, stanchezza, problemi circolatori, indigestione, dolori muscolari, capogiri, cambiamenti d'umore, perdita di memoria, comportamento irrazionale, acidità di stomaco e complicazioni bronchiali. Quando il sistema immunitario viene compromesso dalla mancanza di ossigeno, il corpo è più sensibile alle infezioni batteriche, virali e parassitarie, ai raffreddori e alle influenze. In casi estremi, la carenza di ossigeno può addirittura portare a malattie mortali. Per mantenersi in salute, le cellule hanno bisogno di due cose, eliminare le tossine e ricevere nutrienti puri e vitali. Cell Food è l'unica formula al mondo in grado di garantire entrambe le cose nello stesso tempo. Affidando il supporto nutraceutico per la cura della propria salute a Cell Food, il corpo si purifica e disintossica continuamente, elimina i radicali liberi in eccesso e riceve ossigeno, idrogeno e altri 129 nutrienti essenziali a ogni cellula per produrre energia. Per questo motivo Cell Food è l'integratore di idrogeno e nutrizione cellulare più venduto al mondo. Acquistalo adesso e rivitalizza il tuo corpo con un pieno di energia e salute. Cell Food è ossigeno per la vita, un pass per il benessere.